ragazzi benvenuti allora proviamo qualche esperimento da un mostro 1985 una battaglia è la sono le prime volte che ci gioco e ho fatto qualche partita non avevo mai giocato ho visto che la modalità che mi piace di più con la squadra ma se qualcuno di voi gioca fatemi sapere che ci organizziamo magari facciamo qualche partita in live adesso facciamo una prova vediamo se qualcuno partecipa ho fatto qualche partita devo dire che è carino l'ultima partita mi hanno mi hanno ucciso malamente dalla distanza non me ne sono neanche accorto speriamo che non laghi con OBS aperto però non credo allora david un certo jimmy tricks al solito si è in quattro allora dove sono loro allora david jimmy trickster che bisogna cercare di stare uniti eh poi ho cercato di andarli a prendere ok quello è un nemico subito attento attento allora col piccone come vedete che spacca tutto andando alla ricerca di risorse bisogna trovare le armi ogni tanto ci sono questi bauletti ok attento perché ecco là infatti bisogna sempre muoversi aspetto dunque un match a squadra e bisogna farli fuori tutti eccone là un altro ha visto ebbè visto ebbè visto intanto qua ci sono due dei miei ma ancora non l'ha visto il tizio che è entrato eccolo là ahia 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 maledetto mi porta via bastardo infame grande grande uh via 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 ah 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 bastardo eh ma c'era troppo bordello vai ragazzi fategli il culo ah 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 eh ma erano in tanti siamo andati a finire in una zona adesso vediamo ecco eh fesso un'altra siamo andati a finire in una zona che era troppo trafficata poi evidentemente quelli erano giocatori abituali immagino che chi c'è il sergente col suo pacchetto di armi eccetera perché partono già armati allora allora shikim shikimini nektarios mario sì 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 ecco ancora in mezzo al traffico dove siete? una di qua, una di qua già sparano sta sparando uno dei miei qua è dove prima mi hanno ammazzato non ho visto nessuno però è un posto di merda questo porca troia mi ha ammazzato cazzo non devo più finirli in mezzo assolutamente ecco lì guarda comunque prima con un po' di precisione in più ce l'avrei fatta ho avuto l'opportunità di colpire ho avuto l'opportunità di colpire bene però non gli ho preso la testa mi ha messo un po' a buttarmi giù poi non ho ancora capito bene come si fa con la storia delle costruzioni a costruire velocemente scappare a volte cerco di giocare in campo aperto perché altrimenti è un casino basta andarla in mezzo è un po' a buttarmi giù uno la uno la eeeh c'è un po' eeeh eh così dov'è? dov'è? dov'è la rumore della eeeh qua sopra cazzo ma che mappa di merda è figa tutto pieno di gente cazzo eh già uno per terra oh no stai coperto stai coperto qua l'esperienza red orchestra 2 che è conta eh eeeh che ho dei fucili di merda ci vorrebbe il fucili di precisione che 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 apri e apri e apri la porta ma l'ha visto perché la sarà ma l'ha visto perché la sarà ma l'ha scappato cazzo e ora fa su ah ma il culo figa sto qua mimetico mi metico ma ora no nanu ma lì oh oh stava morendo quel tipo lì oh 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 perchè è ancora collegato lo sento ancora in cuffia dai ma no dai ma no sì ma comunque sta mappa è complicata che io ma forse perché sono salita questo merdone qua e mi raccontro di me o uno che c'è il costume guai questa mappa qua forse perché adesso sono salito di livello mi guardo delle mappe più più complicate non lo so dall'inizio non era così difficile dove siete amici mega hight ecco devo evitare un po le siamo lontani cazzo loro sono andati la vabbè pazienza cercherò di ricongiungermi io ora abbia un fucile di precisione ma poi con materiali si possono potenziare le armi ci sono ogni tanto dei banchi di lavoro queste sono le bende roba è blocce allora io devo andare a beccare gli altri sono le幹嘛 ci sono le beccare gli altri come al non stanno in guardia perché qua saltano fuori come... ah e poi c'è la tempeste che man mano si stringe per far... per far incontrare i giocatori e rimane dentro la tempesta per perdere la vita, piano piano vedo se qualcuno a nuoto perché... ora ferma cazzo ci vorrebbe un fustile di precisione no boh, sono dei mulini ecco la tempesta questa qua, piano, non si stringe allora sono lì dietro... sto arrivando eh non parla nessuno no 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 grazie a tutti dove stanno andando qui? non mi spezzano grazie a tutti a tutti ok no fatto casino ma dove cazzo stanno andando qui là e continuano ad andar dritti eccola merda merda guarda quanti sono qui in quattro vaffanculo va vabbè ragazzi la prima la chiudo qui dai devo sapere qualcosa adesso la posto subito ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti